Siamo con Lorenzo Gai, numero 11 del Belle Arti. Oggi avete vinto 5 a 1, tripletta. Innanzitutto, prima domanda, raccontaci come è andata la partita secondo te. Bene il secondo tempo, ma non possiamo permetterci di entrare in campo come nel primo tempo. Veniamo da un campionato dove il ritmo è 4-5 volte più alto rispetto a questo, anche di più. Per cui dobbiamo sicuramente fare meglio e dobbiamo giocare a ritmo nostro. E pensare a noi stessi. Come avete preparato la partita? Se conosciate gli avversari, quali sono state le vostre tattiche? Perché nel primo tempo avete subito un gol, nel secondo tempo porta inviolata e un distacco concreto in campo. Siamo entrati male. Nel primo tempo siamo entrati male, nel secondo tempo abbiamo corretto le cose che dovevamo correggere. E niente, siamo contenti del risultato, ma non della prestazione sicuramente, parlo del primo tempo. Invece nel secondo tempo le cose sono andate bene. Allora, comunque sia, oggi sono arrivati i tre punti e cosa ti aspetti dalle prossime partite? Noi dobbiamo pensare a noi stessi e pensare a vincere tutte le partite. Noi entriamo in campo per vincere tutte le partite e tutto qui. Allora, ti ringraziamo oggi, puoi portarti il pallone a casa per la tripletta e in bocca al lupo per le prossime. Grazie, ciao.